Ok, vediamo a cosa serve. Quella statua si è morta. È un marchi-ingegno complesso. Niente male. La statua si è morta. Oddio! Ci ha mancato poco. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Vieni su. Arrivo. Ah, per l'amor del cielo. Tre statue, con due simboli diversi. La stella va e gli anelli. Per un soffio! Ancora viene il difficile. Ancora un po'. Ok, è fatta. Su, vieni! Ricevuto. Ah, immaginavo ne mancasse ancora uno. Come lo sapevi? Tre è il numero perfetto. Eh? Vedrai. Oh, per un filo! Ok, fin qui tutto bene. Oh, per un filo! Bello! vedzo là il надо! Come lo sapevi bene! Grazie a tutti.